Connie Mendez è stata una scrittrice e conferenziera venezuelana molto nota nel campo dello sviluppo personale e spirituale. Sebbene sia scomparsa nel 1979, i suoi insegnamenti e le sue opere continuano ad essere apprezzati da molte persone. Secondo Connie Mendez, raggiungere il successo richiede una combinazione di pensieri positivi, visualizzazione creativa e azione determinata. Ecco alcuni principi chiave che potresti considerare per avvicinarti al successo. Secondo la sua filosofia. Pensiero positivo. Mendez credeva fermamente nell'importanza di coltivare pensieri positivi. Sosteneva che i nostri pensieri creano la nostra realtà e che l'energia che mettiamo nei nostri pensieri influisce sulle nostre esperienze. Quindi, cerca di coltivare pensieri positivi. Focalizzati su ciò che vuoi ottenere e su ciò che ti rende felice. Visualizzazione creativa. Connie Mendez incoraggiava l'uso della visualizzazione creativa come strumento per attrarre il successo. Immagina vividamente il risultato che desideri raggiungere. Immergendoti completamente nella sensazione positiva che proveresti se già lo avessi raggiunto. Questo processo di visualizzazione aiuta a programmare la mente subconscia per attrarre le opportunità necessarie per raggiungere il tuo obiettivo. Affronta le paure e le limitazioni. Mendez suggeriva di identificare e affrontare le paure e le limitazioni che possono ostacolare il tuo cammino verso il successo. Lavora sulla tua autostima. Riconoscendo le tue capacità e superando le convinzioni limitanti. Sfida le tue paure e agisci nonostante esse. Lavora con passione e determinazione. Per Mendez. La passione e la determinazione sono fondamentali per il successo. Identifica ciò che ti appassiona davvero e fai tutto il possibile per perseguire quella passione. Metti impegno costante nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Mantenendo una mentalità perseverante e focalizzata. Gratitudine. Mendez sottolineava l'importanza della gratitudine. Essere grati per ciò che si ha e per le opportunità che si presentano favorisce un atteggiamento positivo e l'attrazione di ulteriori successi nella tua vita. Pratica la gratitudine quotidianamente. Riconoscendo e apprezzando le benedizioni presenti nella tua vita. Questi sono solo alcuni dei principi che Connie Mendez ha insegnato per raggiungere il successo. Ricorda che il successo è un concetto personale e può variare da individuo a individuo. Adattare e applicare questi principi nella tua vita personale e professionale potrebbe aiutarti a creare una strada verso il successo secondo i tuoi valori e desideri.